Sono pronte, eccole, e sono pronti, eccoli, loro sono gli allievi della scuola di ballo B-Family, eseguiranno una salsa cubana. Trae una sonorità che suena differente, un ritmo calencioso che le gusta a mia gente, è qualcosa molto naturale, se lo repite mi estribillo, guardandolo cubano perché è il nostro estilo. Sono certi del pueblo e sui raize, come lo ves, llevo la musica dentro e con la clave, me crié, sono guaguangoso, la rumba, soy bebe, la 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 rumba, che buona è, che buona è, però che rica, non viene la operazione, escucha, e tu veras, che bacino. Viene a la che attda, bacino, f Gonbo. Viene a la che attonsa solleva solita. Viene a la che attda, bacino, f 허 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.